lo yoga è il naturale processo all'interno del corpo della mente dell'anima di risveglio alla consapevolezza questo parte con delle discipline delle pratiche che sono quelle di appunto respirazioni posture shat kriya che sono delle dei procedimenti di purificazione del corpo e attraverso queste pratiche eseguite con la disciplina e con la costanza il corpo la mente si purificano il cuore si apre ed ecco che a un certo punto si risveglia il prana il prana è energia il prana è questa forza vivente che dimora in tutte le forme esistenti come nei fiori nelle piante negli animali in tutto l'universo c'è prana e che abita dimora e vive anche all'interno del nostro corpo quando il corpo è sufficientemente purificato attraverso lo yoga ecco che il prana si risveglia questo è accompagnato da un da fenomeni molto intensi molto forti ecco quando si parla di risveglio del prana si parla proprio di quel momento in cui l'energia divampa nel corpo divampa nel corpo e non solo per un istante ma questa cosa è come dire come se viene aperta una porta e quindi questo definisce un passaggio proprio cioè non è un'esperienza limitata nell'arco di qualche minuto ma è proprio l'inizio di un livello energetico molto molto più alto che investe il ricercatore e a questo punto devi sapere proprio cosa fare con l'energia ed è proprio qui che ti serve la guida di un maestro perché quando sei in questo passaggio se non hai un maestro che è sulla via della liberazione del prana della resa al divino non capisci cosa devi fare infatti per questo le persone quando arrivano sul confine di questa sensazione quando arrivano al punto in cui sentono che l'energia il prana si sta risvegliando e quindi sta accadendo qualcosa di molto forte perché quando sei lì avverti che stai per esplodere sta succedendo qualcosa di fuori dal tuo controllo ecco a quel punto lì se non hai un supporto se non hai una relazione se non hai una connessione con un maestro di prana un maestro di verità un maestro sulla via della liberazione dell'energia tirerai il freno a mano tirerai il freno a mano perché hai paura che questo ti porterà a fare dei danni hai paura che impazzirai hai paura che perderai completamente il controllo e che questo sarà devastante per la tua vita quindi tutte queste paure che sono molto profonde molto radicate ti portano a gestire a tenere il prana a tenere questa energia ad un livello sopportabile tollerabile e controllabile il ricercatore invece che sta cercando l'unione col divino capisce che questa energia prima o poi va liberata questa energia prima o poi va lasciata al suo alla sua origine va lasciata al suo creatore cioè va restituito tutto ciò che io trattengo va restituito a dio è come dire da un altro punto di vista tutto ciò che sto trattenendo e definendo di me tutto ciò che sto dicendo questo sono io va lasciato va abbandonato perché in realtà questo che sto dicendo sto al quale sto dando una definizione è solamente mentale solamente illusorio perché ciò che io sono è infinito silenzio infinita beatitudine infinita consapevolezza quindi ecco questo passaggio del prana della liberazione del prana è nello yoga fondamentale allora quando viene liberato il prana si viene iniziati alla pratica della resa al prana allora quello è un passaggio che fa iniziare proprio il vero yoga che non è quello preparatorio diciamo anche se tutto è yoga diciamo così che il yoga più profondo inizia con la resa quello che quello che c'è stato prima è proprio preparatorio cioè ti accompagna a questo confine davanti a questo confine dove hai la possibilità di liberare il controllo dal prana a quel punto si viene iniziati allo yoga detto anche yoga divino in cui l'allievo il ricercatore si arrende a questa energia si lascia andare a questa energia con una pratica sistematica quindi ogni giorno per tot tempo nella propria stanza di meditazione quindi non sto parlando di un lasciarsi andare così quotidiano in qualche momento della giornata dove sono davanti al panorama e mi lascio andare non è di questo che sto parlando sto parlando proprio di una pratica sistematica conosciuta e tramandata da maestro d'allievo da migliaia di anni che si chiama yoga e questo è proprio lo yoga cioè da qui inizia proprio la parte più profonda dello yoga quando capisci capisci che puoi arrenderti a questa energia divina e capisci che questa energia ti sta accompagnando attraverso dei processi intelligenti che andranno poi a manifestarsi attraverso inizialmente attraverso dei movimenti catartici poi attraverso delle respirazioni e poi lentamente prenderanno forma delle posture molto chiare molto ben definite e nel tempo sempre più precise sempre più precise che andranno che sono poi lo yoga che sono proprio le posture dello yoga questo processo a un certo punto si acquieta entra in un livello più profondo dove il prana si raccoglie completamente all'interno del corpo e quando si è raccolto completamente all'interno perché la parte periferica la parte fisica fondamentalmente è stata purificata a un livello ancora più profondo ecco che si risveglia kundalini ed è lì che arriva il risveglio di kundalini molti scambiano per risveglio di kundalini il risveglio del prana che sono due cose completamente diverse il risveglio del prana è il risveglio di questa energia il risveglio di kundalini invece quando il prana ha purificato profondamente il corpo ed arriva e si è completamente riassorbito all'interno allora all'interno ecco che c'è questi ci sono questi risvegli di kundalini che sono energia ascendente kundalini può solo salire e sale all'interno di un canale centrale nel corpo o viene collocato viene viene individuato sulla spina dorsale sul retro della spina dorsale ma in realtà è un canale come dire che scorre all'interno del corpo può essere percepito come un vuoto infinito nel quale scorre energia infinita il risveglio di il kundalini porta ad aprire tutti i centri energetici quindi tutti i chakra e quando tutti i chakra cominciano ad aprirsi e lentamente si aprono si aprono fino ad arrivare ai chakra più alti ecco che iniziano processi legati a questi ultimi chakra che sono dalla gola fino alla sommità del capo e si entra in quello che è chiamato anche yoga regale o rajah yoga in questo yoga i processi sono più diciamo silenti più profondi perché coinvolgono soprattutto il pensiero le parti sottili le impressioni mentali e quindi si inizia quel yoga che ti fa entrare ti permette di entrare nello stato meditativo mentre prima tutto il processo coinvolgeva il corpo coinvolgeva le posture le respirazioni purificava il corpo ecco che qui la postura comincia a diventare statica il prana non muove più particolarmente in modo catartico il corpo lo fa stare fermo e tutta l'energia si raccoglie all'interno dei pre degli ultimi chakra e quindi inizia proprio la concentrazione e poi la meditazione e questo prosegue alla fine con l'ingresso nel samadhi che è l'unione con il sé quando si entra in samadhi quando poi si è entrati in samadhi inizia il processo di trasformazione del corpo perché questo tipo di samadhi nello yoga è accompagnato anche da processi fisici per esempio la ghiandola pituitaria secerne un liquido che va a entrare nel corpo viene ingoiato dallo yogi nel corpo quindi rimanendo nel samadhi e ingoiando questo liquido il prana che continua a lavorare su livelli su piani sempre più sottili comincia a trasformare gli atomi di questo corpo fisico e si va verso la trasformazione di questo corpo da un corpo mortale a un corpo immortale conosciuto nello yoga come corpo divino nella nostra religione conosciuto come corpo cristico e quando si raggiunge la completezza del corpo divino cioè quando il corpo diventa immortale in tutte le sue parti cioè i suoi atomi suoi fotoni protoni non sono più vincolati alle leggi di pracriti alle leggi della natura di che governa questo piano esistenziale allora sono libere c'è tutti questi atomi diventano liberi diventano liberi e vuol dire che possono tornare a essere completamente luce e anche a rimaterializzarsi ricomporsi in una entità fisica un visibile ovviamente per raggiungere questo livello lo yogi deve ritirarsi completamente da qualsiasi attività mondana perché altrimenti le distrazioni impediscono questo processo di andare avanti ecco io qui in quattro parole ho descritto un processo yoga che dura anni vite e vite intere però questo è lo yoga questo è lo yoga quindi non confondete lo yoga con quattro posture un momento di rilassamento e uno scioglimento delle tensioni perché quelle sono solamente fasi preparatorie per chi vuole realizzare il divino guardate invece allo yoga come un processo scientifico un processo naturale che va attraverso la naturale resa all'energia vitale poi l'energia vitale fa tutto il suo lavoro per entrare in questo yoga dovete cercare un maestro di yoga che conosca questo processo non fatelo da soli perché sennò vi incastrerete in in manifestazioni che non sapete interpretare di cui spesso si ha anche paura perché questo yoga porta il corpo porta la mente a stati anche estremi è uno dei processi più difficili anche se il più completo perché porta alla liberazione grazie